Dialoghi, persone e fatti attorno a te. Buona giornata da Fabio Pizzul. Dialoghi apre il suo spazio anche oggi, è il 25 di ottobre e oggi parliamo di cinema e teatro e lo facciamo con Angelo Chirico. Bentrovato Angelo. Bentrovati, grazie dell'invito e buona giornata. Allora, chi è Angelo Chirico? Lavora nel campo del teatro e del cinema da quanti anni? Dunque, ho iniziato nell'80 come hobbysta e poi diciamo dal 92 è diventato il mio lavoro. Ebbè, quindi ormai abbiamo un po' di anni sulle spalle. Una passione quella per il cinema e il teatro prima ancora che un lavoro, mi pare di aver capito. Sì, una passione che poi ha fatto cambiare un po' anche le scelte nella vita e quindi si è seguito un po' quello che era il fuoco, il desiderio che spingeva e che non era più adeguatamente appagato da una prestazione puramente volontaristica. Senza nulla togliere al volontariato perché secondo me in questo ambito definire i confini siccome è un po' una grande passione, diciamo, rimane sempre una scelta che non è soltanto un mestiere. E ma raccontiamo da dove hai cominciato per passione? Io ho cominciato nella mia città d'origine dove tuttora vivo che è Brugherio. Provincia di Monza e Brianza però al confine con la città metropolitana. Sì, esatto. E quindi nell'80 c'era questa bellissima realtà che è una struttura costruita nel 1966 quindi con un grande impegno anche economico con un progetto architettonico ambizioso, quasi 700 posti, un bel palcoscenico. E quando arrivò questo sacerdote perché poi a condizionare un po' le scelte a meno personali ma anche di altri c'è sempre la figura in un modo o nell'altro di un sacerdote, di un pastore. In questo caso arrivò a Brugherio Don Mario Longo, che poi è diventato un carissimo amico e lo è tuttora, che disse ma abbiamo questa realtà, abbiamo una radio, qui c'è bisogno di qualcuno che... No, questo è stato successivo. Nell'80 mi disse... E la trote, gli anni passano, è la memoria. Nel senso che la scelta della radio arrivò una decina d'anni dopo quando appunto feci il salto e lo feci diventare la mia scelta di vita. Nel frattempo stavo facendo altro, ma lui mi disse, tu mi ricordo che ami il cinema e il teatro, seguilo tu e lì ho cominciato a fare la prima stagione, nell'80 abbiamo fatto la prima stagione teatrale, 80-81. Cineteatro San Giuseppe, così si chiama. San Giuseppe di Brugherio, assolutamente. Che è ancora in attività. Assolutamente, sì sì, siamo arrivati alla 44esima stagione teatrale, quindi da quell'80 abbiamo iniziato a fare, diciamo, sistematicamente delle proposte strutturate e poi il lavoro è cresciuto e ti dicevo, fino a che mi disse, ma scusa qui abbiamo anche una radio, perché nel frattempo abbiamo comprato anche le frequenze di una radio che si chiamava radioproposta e che è rimasta nel cuore. E allora, diciamo, ho mollato il lavoro sicuro che avevo e ci siamo inventati questa nuova strada che poi ha portato a fare tante altre cose, insomma. Si vive quindi di teatro e di cinema, anche sul territorio, al di fuori dei grandi circuiti? Ma allora, io penso di essere stata una delle prime persone che si buttava in questo ambito, infatti ti faccio una confessione, una delle domande che mi facevo a fine giornata, si diceva, ma oggi in termini economici che cosa ho prodotto? In Brianza si dice, cosa ho fatturato? Cosa ho fatturato? Diciamo, com'è sostenibile questa strada? E ti dico che sono domande che poi, come dire, ti accompagnano sempre, ma lì insomma era una cosa nuova, era una roba che, diciamo, aveva un margine di azzardo sicuramente e dopo si è consolidata. E continua tuttora, siamo nell'ambito di quelle che definiamo le sale della comunità. Le sale della comunità, sì. Diamone una definizione anche per i nostri ascoltatori. Le sale della comunità sono una realtà molto preziosa come presidio sociale, culturale del territorio. Sono su tutto, diciamo, il territorio nazionale. Sono quelle che una volta si chiamavano sale parrocchiali e che poi hanno cambiato nome, anche perché, diciamo, sono entrate nell'ordinamento, cioè lo Stato italiano riconosce questa realtà. Cosa sono? Sono le sale che dipendono da l'ente ecclesiastico, che sia un ordine religioso, che sia una parrocchia. E sono un grande patrimonio, in modo particolare nella diocesi di Milano sono una realtà molto... Numericamente di cosa parliamo? Allora, sulla diocesi di Milano sono, diciamo, 120-130 sale della comunità. Poi, i profili sono molto diversi, cioè c'è la sala della comunità, che ha, come dire, oltre al gruppo di volontari, anche, diciamo, dei dipendenti, come è capitato a Brugherio già dal 1992. E, però, questo è un po' un trend, cioè la professionalizzazione all'interno della sala della comunità ha richiesto, in tante situazioni che sono cresciute molto, che si arrivasse poi a avere delle figure strutturate, perché, evidentemente, il lavoro, il progetto, porta con sé tante cose e quindi non è più possibile farlo soltanto nel tempo libero. E sale della comunità che significano cinema, che significano teatro e anche, però, attività culturali più in generale. Sì, diciamo, possiamo pensare a delle sale polivalenti, dove il cinema, il teatro rimangono delle attività primarie, ma la musica, luoghi d'incontro, cioè vanno un po' pensati, secondo me, sempre più come dei centri culturali, dove ci sono questi linguaggi presenti, quelli del cinema, del teatro, della musica. Ma, diciamo, la modalità con la quale vengono, come dire, vissute queste esperienze artistiche sono la cifra qualificante e quelle che, in qualche modo, segnano anche l'indirizzo verso il futuro. Che non vuol dire, tra l'altro, questa modalità, un qualcosa di meno qualitativo, di meno professionale, ma una particolare modalità con cui si affrontano queste proposte, che però riescono ad attirare anche spettacoli di grande qualità. Sì, sì, diciamo, c'è una... esattamente questo, la cura del modo con cui ci si relaziona, sia la proposta artistica, quindi nella scelta, nella cura di ciò che viene offerto, ma anche nelle modalità. Abbiamo bisogno di una ritualità, anche nel cinema, non solo... cioè, sappiamo che il teatro è rito. Ecco, la ritualità deve essere proposta anche per quanto riguarda il cinema. Ne parleremo ancora tra poco in Dialoghi. Siamo in compagnia di Angelo Chirico, che ha dedicato, di fatto, possiamo dire, la sua vita alla sala della comunità di Brugherio, allargando poi lo sguardo oltre. Ma ne parleremo tra poco. Se volete raccontarci la vostra esperienza riguardo la sala della comunità, che magari frequentate, o dirci cosa pensate di queste realtà, 335-58-58-800, Whatsapp, a vostra disposizione. Dialoghi, persone e fatti attorno a te. Dialoghi, quest'oggi ci porta a parlare di cinema e teatro, con una coloritura particolare, quella delle sale della comunità. E abbiamo in studio, qui, con noi, una, in realtà, vecchia conoscenza di Radio Marconi, ovvero Angelo Chirico, che per ben 100 puntate ha portato avanti fronte del palco, qui su Radio Marconi, ovvero un tentativo di raccontare proprio il mondo del cinema e del teatro. Sì, soprattutto del teatro, sì, durante il periodo del covid è partito, poi siamo andati avanti, abbiamo spunciato tutta la mia gente, tutti i miei contatti e gli ho fatto raccontare dallo scenografo, ballerino, regista, attore, un po' la loro storia. Ecco, parliamo proprio di teatro adesso e di sale della comunità, quelle che un tempo si chiamavano più familiarmente sale parrocchiali. Ecco, ma si riesce a fare teatro? Perché uno, sale parrocchiale o sale della comunità, pensa al teatro amatoriale, cioè a quel gruppo di vecchi amici che si mette a mettere in piedi una pista teatrale, ma in chiave molto, molto amicale e anche artigianale. Ma è così? Allora, premesso che massimo rispetto e cappello a chi fa teatro amatoriale, perché se non poi ti arrivano i messaggi, ma giustamente è una, come dire, un'esperienza importantissima nelle nostre sale. Tra l'altro c'è anche un'associazione del teatro amatoriale. Assolutamente, quindi massimo rispetto per chi fa questa scelta e fa questo lavoro gratis e lo fa anche bene perché, diciamo, è un mondo vivacissimo. Ecco, premesso. Tra l'altro anche con esperienze di qualità. Di grandissima qualità, di grandissima qualità, dove si ispirano anche i professionisti, eh, parliamoci chiaro. Ed è una fucina anche per i professionisti. Nel rispondere alla tua domanda, quindi fatta questa premessa importante, nel rispondere alla tua domanda ti dico, sì, è importante al punto che abbiamo delle sale, che in virtù proprio di quello che diceva prima hanno un palcoscenico, cioè c'è una struttura, il teatro è uno spazio anche fisico. E quindi negli anni 50-60 le nostre parrocchie, profeticamente, in modo conscio o meno, hanno realizzato delle strutture pensando in grande. E questo ha consentito a tantissime, a diverse, perlomeno realtà, di avere delle stagioni, delle stagioni importanti con compagnie primarie, che, eh, ormai lavorano da 30, 40, 50 anni, eh, per tornare alla mia esperienza, 44esima stagione, eh, interrotta solo un anno durante la pandemia, eh, più di 50, eh, gallarate, cioè abbiamo tantissime realtà importanti. E sono un unicum, però, eh, realtà così, eh, a livello nazionale. E quindi, eh, ci sono questi teatri, che potrebbero stare in centro a Milano, pertanto per essere chiari con chi ci ascolta, che hanno un profilo alto dal punto di vista artistico, organizzativo, che reggono, perché la tenuta, come dire, economica, la tenuta artistica di un profilo, di un percorso, è fondamentale. Quindi, ad averne di teatri che durano 40 anni, noi abbiamo fatto, a fronte di questa realtà, una cosa molto bella, con ACEC, che è l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, ma non solo cinema, la nostra associazione milanese, che riguarda la diocesi, abbiamo messo insieme 12 esperienze, abbiamo fatto una rete di teatri. Cioè, è la prima volta che i teatri, invece di mettersi le dita negli occhi... Riescono a collaborare tra loro. Riescono a collaborare tra di loro, cioè, certamente, in un regime di sana concorrenza, ma sana, sana. Quindi, la cultura è anche un modo di rapportarsi con chi fa il tuo stesso lavoro. E quindi abbiamo messo insieme queste 12 sale importanti, che sviluppano questi percorsi, che sono su quattro province, quindi sono una realtà strutturata e, ribadisco, sono un unico ma livello nazionale. E su questo fronte, poi, c'è una risposta anche da parte di coloro che sono parte delle reti, di teatro a livello nazionale, le grandi compagnie e cose del genere, siete considerati da queste realtà o no? Allora, il teatro privato ci considera molto, perché comunque noi garantiamo una circuitazione di spettacoli durante la stagione. Se tu pensi, tu sei un produttore privato, fai uno spettacolo e sai che in Lombardia c'è una rete di 12 sale. Allora, siccome come nostro obiettivo c'è anche quello di generare, fare delle economie di scala sulla distribuzione degli spettacoli, al fine di ottimizzare anche i costi, perché sappiamo che uno dei primi costi nel libro paga delle produzioni sono i camion. Il camion è il primo attore, e quindi nome d'obbligo quello lì, perché se non c'è non vienesce da niente. E quindi il fatto di evitare i trasferimenti, non è solo un fatto di essere ecologici, ma si generano anche dei benefici, quindi noi cosa facciamo nel costruire queste stagioni che ciascuno ha, ciascun teatro ha un suo direttore artistico che si muove liberamente, autonomamente, secondo il profilo e l'indirizzo che vuole darsi. Però si fanno delle scelte comuni, nei limiti appunto di un'autonomia artistica, per fare queste economie di scala. Cioè, chiaramente, spettacoli che vanno su bacini non confliggenti per quanto riguarda il pubblico. Quindi dal gentleman agreement, che c'era prima, perché sostanzialmente c'è sempre stato, bisogna riconoscerlo, si è passati a un lavoro strutturato, poi un lavoro di comunicazione e poi un lavoro verso le istituzioni. Lì è la parte un po' che dobbiamo ancora fare, perché noi per l'istituzione siamo un po' ancora degli obbisti. Degli obbisti, e che cosa che non è confacente alla realtà. Solo una battuta, proprio velocissima, 20 secondi. Dimmi una produzione teatrale che negli ultimi anni vi ha particolarmente dato soddisfazione in questo teatro in rete. Ma guarda, posso dire che noi, farei un torto a qualcuno e prima... Va bene, troppo diplomatico, allora troppo diplomatico, ci fermiamo. Ci fermiamo, ci fermiamo e Dialoghi torna tra poco. Dialoghi di venerdì 25 ottobre ci porta a parlare di cinema e teatro, in compagnia di Angelo Chirico, che lavora da anni presso il Cineteatro San Giuseppe di Brugherio, ma si occupa anche del coordinamento delle sale della comunità a livello diocesano a Milano, attraverso la struttura di ITL, che si occupa di cinema e si occupa anche di teatro. Abbiamo detto del teatro poco fa, parliamo di cinema. Le sale della comunità rappresentano anche un presidio importante per il cinema sul territorio. Sì, se diciamo non tutte hanno un'attività teatrale, però sicuramente l'attività principale rimane quella cinematografica. Anche perché è meno impegnativa dal punto di vista strutturale e logistico. Sicuramente richiede altre competenze, non poche, ma richiede meno competenze. Diciamo che il cinema è vissuto nelle nostre sale della comunità in un modo diverso. Io ho la possibilità di vivere questa esperienza come responsabile dell'ufficio di programmazione di ITL di un'ottantina di sale e sono sale molto diverse tra di loro. Noi ci occupiamo di mettere a disposizione titoli che possano nutrire l'offerta culturale di queste realtà e nutrirle in base al loro profilo. Diciamo, veramente abbiamo una tipologia estremamente differenziata di sale. Quindi si va dalle sale che propongono anche le prime visioni, diciamo così, a sale invece che fanno scelte molto più peculiari. Diciamo che c'è un mix, cioè dalla sala che fa il proprio percorso di Cineforum e dipende innatamente dal bacino, dalla forza della sala, dal punto di vista organizzativo e sale che invece sviluppano dei percorsi al plurale anche dal punto di vista cinematografico. Quindi una pluralità di linguaggi non solo per quanto riguarda il cinema, il teatro, la musica, eccetera, ma anche per quanto riguarda il cinema, non dobbiamo pensare semplicemente al cinema di prima visione o di proseguimento di prima visione. Le nostre sale, alcune delle nostre sale, fanno sì questo, ma fanno anche delle rassegne ricchissime di Cineforum, di percorse di resegna de sé, che diciamo sono un po' l'elemento distintivo proprio nel segno della qualità e della cura, anche con cui vengono scelti i titoli, proposte per le scuole, chiaramente, e poi percorsi tematici legati per esempio anche alla vita della comunità ecclesiale. Ma come risponde il pubblico a queste proposte? Io posso dirti che risponde bene, cioè nel senso che con tutte le difficoltà, perché la bellezza di questo mestiere sta, come dire, un po' nell'ansia che quotidianamente tu vivi appunto rispondendo a questa domanda, che è una domanda che uno non si pone una volta per tutte, ma si pone quotidianamente, anzi più volte al giorno, tutte le volte che tu apri la tua sala per fare una proposta. Direi che mediamente quando c'è una sala curata, dove c'è una proposta attenta, c'è un modo di relazionarsi col pubblico, il pubblico risponde in modo significativo. Cioè non può essere più, non è mai stato secondo me il momento dell'offerta ordinaria, non basta la locandina per fare la forza di una proposta, salvo rarissime eccezioni che però alla lunga non pagano. Che cosa paga? Paga lo stile, paga la qualità, è come andare in un ristorante, in una trattoria, cosa paga? Paga la relazione, paga l'ambiente, l'accoglienza. Ecco, ma si regge di fronte alla concorrenza di multisala con i bidoni di pop corn, con il centro commerciale attorno e la dimensione molto commerciale appunto del cinema? Sì, perché non tutti apprezzano i bidoni di pop corn e il centro commerciale. E poi comunque si può coesistere, c'è un tipo di pubblico che va sia in una realtà sia nell'altra. Parlavo all'inizio del recupero della ritualità ed è fondamentale questo, cioè come dire l'approccio al pubblico, la cura, il non considerarlo semplicemente cliente pagante, ma accompagnarlo in sala con stile, con affetto, perché poi abbiamo tutti bisogno di attenzioni. Il pubblico lo ha sempre di più questo. In una sala della comunità c'è la possibilità di fare questo lavoro. Insomma si coccola anche lo spettatore. Sì, 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 sì. C'era un, leggevo pochi giorni fa, il successo, torno all'immagine gastronomica, dove il 50% lo fa il cuoco e il 50% lo fa il cameriere. E quindi secondo me dovrà parlare molto sui camerieri. Bene, Angelo Chirico, siamo in studio con lui a Dialoghi, stiamo parlando di cinema e teatro nell'ottica delle sale della comunità, ma voi le conoscete, le frequentate? 335-58-58-800, Whatsapp. Dialoghi, persone e fatti attorno a te. Parliamo di cinema e teatro, quest'oggi a Dialoghi, in compagnia di Angelo Chirico, di ITL Cinema, dei teatri in rete, sempre promosso nell'ambito dell'ACEC, della Diocesi di Milano. Parliamo un po' della stagione attuale. Quali le prospettive, le novità anche della stagione, che di fatto coincide un po' con la stagione sociale, quella che comincia dopo l'estate e va alla prossima estate? Diciamo che c'è grande fermento nei teatri, dei teatri in rete, ma dei teatri in generale. La prima cosa da dire è che, lo dicono i numeri, lo spettacolo dal vivo ha un appeal ancora molto forte. Dopo lo shock del covid si è ripartito. Assolutamente, sì. Il pubblico ha voglia di socialità, ha voglia di trovarsi a teatro. Forse un po' meno per, diciamo, spettacoli di prosa tradizionale, come li potevamo considerare, prima più per, diciamo, spettacoli, posso dire, leggeri. Ecco, c'è voglia un po' di leggerezza. Allora, il tentativo qual è, secondo me, una sana direzione artistica di un teatro? Quello di unire, come dire, questa legittima attesa senza venir meno alla qualità. E quindi c'è un lavoro di ricerca e di offerta che va in questa direzione. Il pubblico, sento anche, come dire, i riscontri dai teatri, per quanto riguarda i numeri delle campagne abbonamenti, sta tornando, sta incrementando, ci sono dei segni positivi dal punto di vista proprio aritmetico e quindi questo è una bellissima cosa. Le sale, quando vedono questi dati, sono, come dire, incentivate a fare di più, quindi a fare più offerta, a essere più presenti, a essere più performanti dal punto di vista dei cartelloni. Noi abbiamo dei cartelloni veramente molto ampi. Facciamo qualche esempio anche di spettacoli che arrivano in una stagione di prosa dei Acec, Diocese di Milano e dei teatri in rete, per capirci un po' e dare anche dei nomi che magari sono più evocativi anche per i nostri ascoltatori. Certo, allora, io ti dico dei nomi che ricorrono nei cartelloni di teatri in rete, e poi mi perdonerete se dimentico qualcosa. Ma ci manchierebbe. Quindi Ambrangiolini con il suo spettacolo Oliva Denaro, è un spettacolo che ha già, diciamo, circuitato, è già stata ospite nei nostri teatri in rete e tornerà ad essere presente nei cartelloni di quest'anno. Perché è un grande spettacolo, è sorprendente e quindi c'è moltissima attesa e questo passaparola si legge anche nel pubblico e nelle richieste che il pubblico sta facendo per quanto riguarda, diciamo, poter partecipare a questi spettacoli. Un altro spettacolo importante che è stato un campione di incassi la scorsa stagione sicuramente è lo spettacolo di Paolo Genovese, Perfetti sconosciuti, che tutti conosciamo perché l'abbiamo visto al cinema, è questo spettacolo portato in teatro. Il tema è, come dire, affrontato con leggerezza, ma è di una attualità straordinaria. Poi altri nomi amatissimi dal pubblico presenti sono Ale Franz, sto guardando il cartellone così generale, poi uno spettacolo diciamo che è stato un po' adottato da teatri in rete e che ha girato la scorsa stagione e sarà presente anche in questa stagione è lo spettacolo prodotto dal teatro Franco Parenti, che è una delle produzioni a cui noi, prima mi chiedevi di sbilanciarmi, ecco abbiamo attinto al teatro di Ruth Chammat, che ci ha un po' tenuto anche a battesimo quando abbiamo fatto l'inaugurazione di questa realtà, è Faragiorno, che è questo spettacolo molto bello e che sarà interpretato da Vittorio Franceschi nella nuova edizione che girerà nel 24-25. Sì, quindi insomma nomi che arrivano dai circuiti principali. Poi ti dico, un titolo che fa un po' impazzire soprattutto le insegnanti, le filippiche di Filippo Caccamo. Filippo Caccamo, diciamo, è nel mondo degli insegnanti della scuola, lui racconta la sua esperienza dentro la scuola, con tutti i tic, le nevrosi, lo fa con una grande ironia e grande divertimento per il pubblico, diciamo, ha riscosso un successo sorprendente, un teatro l'anno scorso nel nostro circuito ha dovuto riprendere lo spettacolo in un'altra replica perché è andato sold out in pochissimo tempo. Quindi nomi significativi che continuano anche con la musica, perché dicevi che nel circuito di teatro in rete c'è spazio anche per la musica oltre per il cinema. Sì, sì, la musica è sempre, diciamo, è sempre presente, il teatro musicale, Paolo Iannacci toccherà diversi teatri in rete nella prossima stagione, il gospel a Natale è sempre molto presente, c'è un altro spettacolo che in realtà non è di musica ma è di ballo, che sarà le balle, l'Italia balla dal 1940 al 2001, uno spettacolo che ormai gira da tantissimi anni, e lì non c'è una parola detta, c'è musica e è un teatro ballato, non è uno spettacolo di balla, è un teatro ballato, quindi ci racconta la nostra storia in questi 60 anni, quindi c'è veramente anche lì tanta musica, poi abbiamo alcuni nostri teatri, si sono specializzati, quindi ospitano formazioni di musica classica, diciamo blues, jazz. Senti, siamo in chiusura di questa nostra chiacchierata, ma se qualcuno volesse andare a spulciare nell'offerta che viene fatta dalle sale della comunità a livello teatrale, con teatro in rete, a livello cinematografico, quale strada può percorrere? Allora, per quanto riguarda teatri in rete abbiamo un sito che sarà aggiornato tra poche ore, ho la bozza dei contenuti del nuovo stagione. Era qui con la penna rossa e blu a dire questo sì, questo no. Ci sono delle cose da sistemare, teatrinrete.it potete andare a vedere l'offerta di questi 12 teatri che, ripeto, arrivano, sono su quattro province, Monzebrianza, Milano, Varese, Bergamo. Beh, quindi davvero un bel territorio. Quindi arriviamo, vi portiamo vicini, vi portiamo vicino. E poi, per quanto riguarda la programmazione cinematografica, andate sul sito di Acec di Milano, e quindi potete trovare la programmazione delle nostre sale. Bene, allora, grazie ad Angelo Chirico per essere stato con noi questa mattina. Grazie, grazie dell'invito. Abbiamo parlato di teatro e di cinema dal punto di vista delle sale della comunità. Vedo già qua che freme perché deve andare a correggere le bozze del sito, deve andare a programmare tutte le varie attività. Allora, buon lavoro alle sale della comunità. Mi raccomando, andate a far loro visita perché vale la pena. Si chiude qui la chiacchierata di oggi in Dialoghi. Dialoghi. Persone e fatti attorno a te.